Passata un po' in sordina, probabilmente perché oscurata da cappe e mantelli di altre serie, Reservation Dogs è un piccolo telefilm di 8 episodi da 25 minuti, presenti nella sezione star della piattaforma Disney+, e a mio modesto parere, uno dei migliori prodotti televisivi di questo 2021. E Laura Dunham, Bear, Cheese e Willie Jack sono quattro teppistelli della riserva della tribù muscoghe, che escogitano ogni tipo di stratagemma pur di raggranellare la somma necessaria per sfuggire dal triste paesino dell'Oklahoma in cui vivono e fuggire verso la California, vista come la terra promessa delle nuove opportunità. Tra piccoli furti, scazzottate con le altre gang locali e scorpacciate di pesce gatto, i quattro ragazzi si devono confrontare anche con una comunità a cui sentono di appartenere, ma che temono gli inglobi in una stretta senza uscita e che a parer loro si è portata via un amico fraterno. Concepita da Taika Waititi assieme al regista nativo americano Sterling Hajjo, quest'opera è la prima serie che vanta un cast e una troupe composta di soli indigeni e che, oltre al già citato Hajjo, vede alternarsi alla regia direttori dai nomi inequivocabili quali Tasba Rose Chavez, Sydney Freeland e Black Horse Lowe. Insomma, a distanza di quasi 500 anni, dalla depredazione perpetrata dagli europei nei territori nordamericani, un regista neozelandese di origine maori, Waititi, riesce con la sua influenza a Hollywood a aprire la strada per una serie che dà il giusto rilievo alle popolazioni autoctone statunitensi, non in una dimensione western storica, ambito in cui sembravano relegate, ma aprendo finalmente una finestra sul vuoto esistenziale di culture che hanno a lungo rischiato la cancellazione. Non parlo solo di whitewashing, cioè quella pratica di Hollywood in cui un personaggio appartiene a una specifica etnia e viene interpretato poi da un attore caucasico. L'operazione guidata da Waititi parte da un'esperienza comune tra le sue origini e quelle dei nativi americani. In Oceania, infatti, e in special modo in Australia, le popolazioni autoctone da decine di anni vivono un malessere profondo correlato a una percezione della propria esistenza come un vuoto dovuto alla perdita della loro identità. Non è un mistero, infatti, che la scomparsa di miti e rituali antichi determini la disintegrazione di una comunità, in poche parole. La colonizzazione di quelle zone ha determinato una disgregazione delle tribù preesistenti in un sistema in cui o si è occidentalizzati o si è abbandonati in un oblio senza fine fatto di alcol e droga. Parallelamente, negli Stati Uniti, le popolazioni native sono chiuse nelle loro riserve. Hanno le loro attività commerciali, i loro ospedali e persino una loro polizia riconosciuta e chiamata ufficialmente, non senza ironia a mio avviso, polizia tribale. Ma può bastare? È sufficiente non chiamarli più indiani o pelle rosse? Argio e Waititi ci rispondono che no. Non è un problema né di spazi né tantomeno lessicale, ma si tratta di comprendere in primis il rapporto dell'individuo con la comunità, poi con la famiglia e infine con se stesso e i propri fantasmi. Infatti, i nostri quattro protagonisti inizialmente erano in cinque, ma il male di vivere e una situazione familiare senza sbocco ha avuto la meglio sul loro amico Daniel, il fratello che non ce l'ha fatta, il convitato di pietra, la cui presenza aleggia per tutta la serie e il cui suicidio ha segnato profondamente gli altri quattro reservation dogs. Red Dogs è un termine, questo, che indica in genere i canirandagi che popolano le riserve e qui assume un ulteriore connotato di volontario estragnamento dei protagonisti della loro comunità. Bravissimi i giovani attori che interpretano questa gang, che segna una puntata, commette qualche crimine, in quella successiva si erge contro una trabanda di bulletti per difendere il proprio territorio, animati da una distorta, eppure sincera, visione del concetto di protezione tribale. Nonostante i pochi episodi e il poco minutaggio a disposizione, la serie permette di entrare nella psicologia dei protagonisti, non tanto con discorsi che potrebbero sembrare forzati o paternalistici, quanto con un flusso di azioni e ricordi, accelerazioni e decelerazioni della narrazione che ci permettono di ammirare la qualità recitativa di questi ragazzi. La loro sofferenza è vera e allo stesso tempo quando si divertono, si divertono sul serio. L'alchimia tra questi giovanissimi attori è uno dei punti di forza della serie, ma non è l'unico. Infatti, anche i personaggi secondari sono godibilissimi nella loro tragicomicità più o meno involontaria. Segno che la questione culturale si può trattare anche con leggerezza senza fare torto a nessuno. Segnalo lo zio Brownie, che non si capisce se è un guerriero inarrestabile, uno sciamano con virtù soprannaturali o un certo l'anetruffatore. Allo stesso tempo, l'autorità cittadina, rappresentata dall'ufficiale Big, è per lo più una figura ridicolizzata da tutti, ma anche uno dei pochi ad aver esperito l'ultraterreno incontrando la terribile donna cervo. Perché se i giovani avvertono il vuoto e vedono nella fuga l'unica soluzione per non farsi risucchiare da quel diorama in movimento che sembra essere la riserva indiana, qualche adulto ancora conserva un contatto con i miti e le leggende antiche, parla con gli spiriti e forse ancora può accedere a sfere dell'inconscio collettivo che lentamente stanno morendo. Questa serie non si piange addosso, anzi, nel tragico trova la spinta per il comico, con improbabili rapper tamarrissimi, ricettatori insospettabilmente colti e gli irresistibili gemelli Fanny Bone e Lil Mike, ovvero gli occhi e le orecchie della comunità. Divertentissimo anche William Knifeman, interpretato dal comico Dallas Gultot, anomalo spirito guida del Red Dog Bear, che a Little Big Horn fece una fine misera e che non sembra in grado di dare consigli sensati al nostro giovane guerriero. In definitiva, Reservation Dogs è una serie che consiglio caldamente, perché si muove con grazia tra la commedia e la tragedia, restituendoci un mondo sconosciuto e affascinante, mosso da dinamiche molto diverse dalla nostra, ma al contempo, con un fondo che chiunque non abbia dimenticato la propria giovinezza, non potrà sentire un pochino come proprio. Grazie.